Gentili telespettatori, buona giornata. Il caso boccia al maschile. Sarebbero implicati in questo scoop di report domenica le alte cariche di Fratelli d'Italia. Ci sarebbe Alessandro Giuli, il nuovo ministro della cultura, e Arianna Meloni. Vediamo le parole di Rannucci, le ipotesi, il ruolo di Francesco Spano, Alessandro Giglioli, la nomina di Tagliaferri in Ales. Tagliaferri era quello che diceva di guardare tutti i video della Meloni perché la Meloni insegna e la nomina di questo Tagliaferri sarebbe stata fatta, tra virgolette, secondo diversi giornali, diversi opinionisti, dalla sorella della Meloni, Arianna Meloni. Quindi che cos'è il nuovo caso boccia al maschile? Ci sarebbero delle chat che sarebbero finite in mano ai giornalisti, chat private, svelate. Potrebbero arrivare anche da qualcuno di cui si è parlato molto in questi mesi, ecco, che aveva accesso e ascoltava telefonate, cellulari, ministri. Il giornalista di Report, Rannucci, dice che il ministro Domenica farebbe bene a guardare Inter-Juve piuttosto che guardare la sua trasmissione, per non arrabbiarsi troppo. Quindi coinvolgimento di alte cariche di Fratelli d'Italia. E così si sono scatenate le ipotesi su questa trasmissione di Domenica. Dovrebbe essere un caso simile a quello dell'imprenditrice di Pompei. Ma, dice il giornalista, San Giuliano non c'entra. Anzi, per me può dare ancora tanto al Rai, dice il conduttore. Mentre ci si interroga su Francesco Spano e Francesco Giglioli. Allora, dice Rannucci che ci sono documenti e chat che farebbero ipotizzare responsabilità legate ad alte cariche di Fratelli d'Italia. Quindi il Corriere della Sera scrive, e poi ripete anche open il giornale di Mentana, che ci sarebbe proprio un rimando a questo Spano, che è stato nominato da Giuli, capo di gabinetto, nonostante le polemiche di provita dei giornali di destra, che hanno ricordato il suo ruolo di ex direttore del Lunar, ufficio di Palazzo Chigi contro le discriminazioni. L'Avvocato Pisano è rimasto in carica dal dicembre 2015 a febbraio 2017. Si è dimesso dopo che l'organo della Presidenza del Consiglio aveva rogato 55.000 euro ad Andos, associazione che si diceva allora permetteva ai suoi circoli lo svolgimento di rapporti a pagamento. Si parlò di presunti favoritismi, eccetera, eccetera. Nel 2018 poi la Corte dei Conti ha sancito che quel bando finanziava decine di associazioni, era assolutamente corretto. E poi si parla di Alessandro Giuli, Francesco Spano. Il comportamento di Spano viene ritenuto assolutamente legittimo, mentre nel mirino di Report ci sarebbe proprio il rapporto tra lui e Giuli. L'annuncio ha scatenato l'intagine interna in Fratelli d'Italia e se ne sta occupando Giovan Battista Sfazzolari, che sta vigilando le chat di gruppo per trovare qualche indizio. Richieste di spiegazioni ai piani alti della RAI. Mentre una parte del servizio riguarderebbe le spese di Giulia al Maxi, era direttore del Maxi, con i costi saliti e gli incassi crollati e le relazioni internazionali interrotte. In questo caso Rannucci fa intendere che il favorito sarebbe un uomo e non una donna, mentre altre voci sostengono che la nuova inchiesta potrebbe aver messo nel mirino Fabio Tagliaferri e la sua nomina di Ales. Tagliaferri ha un noto legame con Arianna Meloni, fatta da San Giuliano la nomina però e non da Giuli. Su spinta si disse proprio della sorella di Giorgia Meloni, Arianna. Si disse poi che c'era un collegamento con la vicenda Boccia e una presunta registrazione, nella quale secondo le polemiche proprio Meloni e San Giuliano parlerebbero della nomina. Tagliaferri ha già replicato, non trovo un nesso tra la mia nomina di febbraio e ciò che sta succedendo oggi. Ho fatto politica in Fratelli d'Italia insieme ad Arianna per anni. Il caso Boccia al maschile. Non si capisce se il caso Boccia al maschile sia un qualcosa di inverso a quello Boccia, Boccia che avvicina San Giuliano il politico, nomina poi cancellata. Il caso Boccia al maschile cosa significa? Che questa volta non è una donna ad avvicinarsi al politico, ma è un uomo che si avvicina a una politica? O un uomo che si avvicina a un uomo? Cioè è un caso Boccia al maschile da intendersi quello che c'è stato tra San Giuliano e la Boccia, c'è stato tra un politico di Fratelli d'Italia e un uomo? Quindi il caso Boccia al maschile che cosa si intende? Che è un uomo che si avvicina a un politico? O un uomo che si avvicina a una politica? O che cosa? Beh, lo scopriremo domenica, tanto ormai siamo abituati che ogni due o tre giorni c'è un qualcosa di nuovo nella politica italiana, pertanto non possiamo assolutamente, io almeno non mi stupisco di quello che vedo ogni giorno. Diciamo che l'Italia è ricca di notizie, di politica. A questo punto io vi ringrazio, vi auguro buon proseguimento di giornata, ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti. ricordatevi che poi c'è anche Teleitalia Seconda Rete dove trovate almeno un video al giorno e poi questi video sono caricati nella pagina di Facebook che si chiama Luca Vincitore, dove lì potete assolutamente condividere tutti i video che volete. Buona giornata ancora e a presto. Grazie a tutti.